Buonasera, buonasera da Francesco Infranca, dalla redazione di PerSempreNapoli.it, ben ritrovati, con il corso dell'appuntamento settimanale, con l'attualità, con le conseguenze buone e non ben buone della partita di ieri, il parterre oggi è allargato e fedeli a quello che è il titolo della trasmissione, parleremo francamente senza peli sulla lingua della partita di ieri, anche di altro, con Luciano Tarallo, buonasera, e con il collega Mario passare e chi li vuoi aggiungo. Buonasera a tutti. La prima volta che mi viene da chiedere a entrambi è come avete visto la partita ieri e soprattutto una considerazione su quello che è il rilancio in classifica, ormai sembrava che fossimo destinati a perire dalla parte meno nobile della televisione, mentre invece sembra che la cura Gattuso sia finalmente dando i tuoi frutti, è che questo progetto di rilancio, di rinascita, possa avere un non so che tipo di tipo. Luciano. Inizio io. Allora, per quanto riguarda la classifica, abbiamo scalato qualche proposizione, siamo decimi, quindi il numero dieci mi fa venire in mente tante cose. Istruso. E poi ieri ha segnato pure un golo importante proprio Diego. Ah Diego, sì, ma non mi riferivo... Mi riferivo... No, mi riferivo soprattutto a dare dei voti al mister Ranieri per quello che ha detto nei confronti della nostra città, dei nostri tifosi. Finalmente un uomo con i cosiddetti attributi che si prende le sue responsabilità e da grande uomo ci ha messo la faccia, come ce la mette sempre e comunque il nostro allenatore Rino Gattuso, che da quando è venuto a Napoli ha trasformato e più che moduli io parlerei di anima, ha dato un'anima a questa squadra e i risultati iniziano a venire. Un altro dieci invece lo darei a Ciro Immobile per l'Euro goal che ha fatto, il capo cannoniere. Sono più golo delle pretenze in un istante. Sì, e qualcuno si dovrà ancora una volta ricredere su questo ragazzo, un ragazzo che potevamo tenere comunque tranquillamente a Napoli. E' nudo. Continuiamo così sperando di scalare qualche altra posizione. Speriamo che, se il buongiorno ci vedrà un mattino, speriamo che il buongiorno che ha presentato Gattuso qualche settimana a questa parte potrà essere sempre più fuoriero di cose buone, non è normale? sicuramente. Io credo che l'aspetto più importante della partita di ieri, anche di esserci saliti un bel po' in classifica, ma del fatto che stiamo vedendo pian piano un Napoli determinato e per vedere un Napoli determinato sicuramente c'è la mano veramente importante di Gattuso. Gattuso che riuscite a dare un'anima a questa squadra e non ti mi nascondo che dopo aver appareggiato è stato un attimo ottenuto, però contiene gli diritti che è stato bravo per me a togliere la botte che era dal centro campo perché magari l'ha visto un attimo in discesa e ha rimesso Demme che era uno che riusciva a tentare i denti di collegamento tra la questa volta. Quello che poi con la vento prende il 4-3 è sempre mancato e di cui abbiamo sicuramente bisogno. La partita ha avuto secondo me due facce, la prima sono stati quei 25-30, 35 minuti di iniziale in cui Napoli ha dominato il primo gol dopo tre minuti perché la Samp la palla non l'ha vista mai o quasi, tranne credo un bilancio lungo del loro portiere. Prima mezz'ora fatta molto bene, una parte interlocutoria, diciamo fino a metà ripresa, dove la Samp sia per aspetto fisico ma anche tecnico-tattico di di mordente, di aggressività ha messo discretamente in difficoltà il Napoli, come faceva notare Mario, ha messo in difficoltà hanno fatto quello, l'avrebbero potuta anche pareggiare se il Barra non avesse scompessato i mani di Gabbiadini. E poi una parte finale dove il Napoli pur avendo subito il pareggio non si è demoralizzato, è uscita fuori quella derba, quella feroce cattiveria agonistica da cui faceva riferimento poco prima Mario, secondo me lì è un altro Napoli, un Napoli che non si è abilitato, anzi, non si è neanche accontentato. Eh, forse qualche mese fa questa partita non si sarebbe nemmeno pareggiata. Col Parma, la prima di... magari ti potevi accontentare del punticino, invece prendi gol nel finale con quella riportezza a Sciamurano. Allora mi riferivo prima al 10 a mister Gattuso, il quale oltre a metterci la faccia veramente ha dato, a parte l'impostazione tecnico-tattica, ha dato un'anima a questa squadra. E un altro 10 vorrei dare al Capitano, visto che noi ci abbiamo sempre messo la faccia. Ci ha rimesso la faccia anche ieri sera e in un'intervista a Sky ha detto e ha riconosciuto le colpe dicendo a chiare lettere abbiamo fatto danni, quindi quello che noi supponevamo nei mesi precedenti quando davamo la colpa 33% ai giocatori e l'altro 66% da divide tra società e staff. Non ci sbagliavamo. E il grande Capitano Lorenzo Insigne, uomo di Napoli, napoletano, ci ha messo la faccia e ha riconosciuto diciamo così le proprie responsabilità. e questo gli dobbiamo dare atto che è un grande falciatore e un grande uomo. Mario, pensi che la cura Gattuso abbia fatto bene nel complesso a un po' tutto il gruppo, non ultima settimana le dichiarazioni di Sai dove in maniera molto sincera, senza preguizzi, senza neanche voler fare accuse, ma per la semplice onestà intellettuale impalesare quello che era stato il momento di malessere nei primi mesi dell'anno, nei primi mesi della stagione, si faceva riferimento a qualche cosa che non andasse all'interno dello spogliatore. Dunque presumo che la cura Gattuso abbia fatto bene sicuramente al Capitano che sembra di nato rispetto al triste giocatore che scorrazzava in maniera un po' imbozzita sull'esterno, ma un po' a tutta la squadra. Lo stesso di Sai, al netto di qualche errore tecnico, non ha mai avuto il Ducati, neanche quando Consardi faceva il Capurione su una fascia avanti il minuto. Credo che la cura Gattuso, diciamo, abbia portato benefici a tutti, panchinari o presunti tali, top player o presunti tali. Per me ha fatto bene sia a livello fisico, perché ha cambiato pure la metodologia dell'allenamento rispetto alla precedente stagione di Ancelotti, alla cura Ancelotti. Ora è arrivato un allenatore cavaglio, determinato. Calabresi non lo scopro io, ma sono persone testate che lottano fino alla fine. Lui ci sta mettendo una faccia, è ovvio che non potevamo pretendere che appena arrivato lui potesse già dare la sua incontra alla sua squadra. Però, molto tempo, lui sta lavorando, e i suoi gruppi, oltre da livello fisico, ci stanno vedendo anche a livello fisico. Comunque stiamo vedendo un Napoli pimpante, attivo, cosa che mi vuole dirlo, però ai tempi di Ancelotti, che sarà anche l'allenatore pluridecorato, tutto quello che vuole. Però, io vedo un Napoli spento, ma veramente spento, e di questa rinascita chi ne sta benedificando alla grande è proprio lui. Lorenzo Inzini è che, essendo poi napoletano, ne portico ancora di più di questo momento di scorreggimento dell'attuale. Sembra che uno dei punti nevraldici della Rinascita sia, paraventando una frase cara all'ex allenatore della Luma, Garzia, insieme al centro del villaggio. Sembra che uno dei capisaldi del rinnovamento di Gattuso sia stato proprio quello, a scapito di chi invece vedeva nel passaggio di consegne tra la vecchia e la nuova gestione tecnica, anche un momento in cui il capitano magari avrebbe progressivamente perso la titolarità in favore di altri compagni di squadra. Naturalmente di muoversi proprio diversamente in mezzo al campo. Prima aspettava il pallone, adesso lo faccio per cane anche. Tu l'hai conosciuto, sin erecchi della primavera, Luciano, ne abbiamo parlato spesso. Un giocatore come Lorenzo, che parla con gli Angeli tecnicamente, un giocatore che ti punta, salta l'uovo, un giocatore che in primavera era il... come diceva Ernesto Avuto, tirategli la palla e poi ti puoi film con Pelé, date la palla a lui e qualcosa sicuramente inventa. Sembrava strano che invece non riuscisse a palesare tutto il proprio talento, come faceva Natale Mario, quasi imbossito, la cosa che veniva subito all'occhio non saltava più l'uomo. Oggi invece al lavoro oscuro, in fascia, lunghe diagonali, rincorse del terzino avversario, se no ai limiti della propria era di rigore, però è palese che sul piano della proposizione, sul piano del... anche del divertimento, fa numeri che magari fino a tre, prova a fare numeri che fino a tre, quattro settimane fa, magari non avrebbe neanche tentato. sarebbe limitato a fuggiare la palla al compagno. A volte è fondamentale e è importante il dialogo con il tecnico, creare quell'empatia tra il tecnico e il calciatore. Evidentemente con Gattuso si è trovato quella linfa vitale, e appunto noi racchiudiamo tutto in questa parola empatia. Ma ha trovato la gioia di correre, la gioia di giocare, ha trovato i suoi numeri, ieri ne ha fatti altri. Il gol di Demme è soprattutto una sua invenzione, soprattutto perché poi ha calciato col sinistro che non è il suo pilota. Ma anche prima il gol annullato a Denizchi giustamente per un più che millimetrico fuorigioco nasce dall'accentrarsi e calciare interno giro, dunque non solo col destra ma anche col sinistro. E' uno che parla con la tecnica, non poteva aver dimenticato del giocare a calcio. Proprio partendo da Insigne, io penso che dobbiamo crescere anche esternamente, perché l'equilibrio oltre che interno alla società, interno alla squadra, si deve ricreare anche all'esterno e mi rivolgo soprattutto ai tifosi, massimiliano, ai giornalisti. Ma sul comportamento un po' di pregiudizio, non sono dei commentatori nostrani, io ci tornerei un attimo dopo, non mi anticipate se tu stai leggendo questo. No, no, non so se... Ci tornerei tra poco, Luciano, perdonami. Tante cose positive nelle ultime settimane, in particolar modo ieri. ci sono delle dolenti note o è tutto quello che luce? Dolenti note... Allora, calcola che il Napoli comunque ha subito un cambio, ma non solo di allenatore. Il fatto che sia andato via un uomo come albiologo, è che comunque ha costruito un problema della difesa delle mani. Se si può trovare una nota dolente, è il reparto di tifosi. Perché prima vedi colui che ti importava il gioco, e tu Coulibaly doveva solo preoccuparsi, per esempio, di fare la fase di tifosi. Tu oggi hai giocatori come Manolas e Coulibaly, che a livello difensivo saranno degli ottimi marcatori, però credo che siate d'accordo con me, che lo auguro, che a livello di impostazioni, dove possa avere un po' di difficoltà. Il fatto che sia arrivato al centrocampista come tenne, e va a cercare lui il pallone per poi far ripartire la squadra, possa essere l'elemento giusto per dare ampio spazio psicologico alla fine parte difensivo, e ci auguriamo tutti che dal fine alla fine della stagione possa recuperare a pagare. Quindi il rientro di tani danni. Il rientro di Coulibaly. E' il recupero a pieno regime. Il mattino dice che ieri il banchino agitava la fasciuga mano come un forsennato, come il più forsennato dei tifosi. Credi che possa essere il palle a vivo ad una fase di tifosi che anche nelle ultime settimane ha dato un po' le impressioni di precarietà. Anche perché, ricordiamo che nonostante di Lorenzo stia facendo delle partite meravigliose, comunque è un adattato. è un giocatore che è abituato a giocare con la linea come coperta di linus, è abituato ad andare, è abituato a lavorare. A fare l'esterno destro. Lui è abituato a fare l'esterno destro. La linea come difensore aggiunta. Adesso si sta adattando per necessità, però si spera, come dicevo prima, nel rientro anche in pulita lì per rimettere a posto l'organico difensivo. Senza anticipare un po' dal pubblico, perché dopo sicuramente va bene ma anche parleremo di argomento. Quindi riequilibrare il pacchetto di difensivo. E però l'argomento lo lasciamo al presentatore. Finitela, smettetela. Ma io lo sa, Daniela, ho avuto la furia. Io volevo lanciare una provocazione. Mario ha accorto, ma non ha voluto approfondire. Da qualche settimana a questa parte, nonostante faccia un lavoro scuro, in molti non hanno tante parole di oroggio per Milik. Nonostante io vi sia fatto trovare puntuale. Nonostante lui, tu lo conosci bene, anche quando è rientrato dall'infortunio, ha lavorato sul campo da solo, quando tu magari lavoravi con i portieri, dunque hai visto che un ragazzo disimpegna anche extra gruppo. È uno che le percentuali parlano a suo favore, il tempo di impiego rispetto al gol. Però c'è sempre qualcuno che sta accennato, c'è sempre qualcuno che dice si ha fatto gol, ma si è reso pericoloso, però secondo te è giusto avere delle remore rispetto a questo ragazzo? O è il centravanti del Napoli diverso rispetto a quelli che abbiamo avuto prima? Dunque diverso sicuramente da Higuain, diverso da Cavani, diverso da Cilometto? Ognuno ha le sue potenzialità, ognuno ha le sue caratteristiche. Comunque non tutti saranno d'accordo su, anche su Messi. Ognuno ha una sua idea, no? Da chi piace Messi, poi da chi piace Maradona. Se qualcuno non piace Milik, sarà un problema suo, insomma. Milik non si discuta. Hai detto tu stesso, apporto percentuali, parlano tutti a favore suo. Lui ha una media gol strepitosa. Allora, nelle ultime settimane, sentimo ieri i commenti e le statistiche, nelle ultime settimane che ha fatto tanto movimento e pochi gol, si è un po' innaugata la percentuale. Ma prima di queste 5-6 partite, lui faceva un gol tipo ogni 93-94. Cioè un gol a partita. A me personalmente piacciono altri tipi di centroavanti. So che ho un pregiudizio, perché a me piace un giocatore che, fondamentalmente come Vieri, e parlo di Vieri non per scomodare l'accostamento con Petagna, magari Casiraghi, magari Piali, gente a cui piaceva fare letteralmente a spallate con l'avversario. Milic è uno che, anche per tecnica, è uno che magari gli piace più venire a giocare sui lati, rifugire il contatto fisico. Però è uno che viene all'aria un morticolo. Ieri ha luttato mezza pala sotto cura. Allora, stai parlando con uno che è un estimatore. L'anno scorso, o nell'altra, sull'iscrizione in cui io faccio parte, io leggevo le statistiche in questo cartellone. Se fai il rapporto tra numero di pretenti e gol, è risultato essere il migliore della Serie A. Non per numero di gol, ma trapportando questi gol. Quindi, credo, se Ancelotti è stato considerato sempre più ridecorato, perché parlano da lui tropelli? E perché per Milic no? Perché forse la gente vorrebbe il bomber da 30 gol. Però Iguain, 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 Iguain... Sono delle tipologie di cartellone, molto meno diversi da lui. Questo è un centravanti posizionale. No, diciamo, è uno che si mette lì, però pur avendo il fisico del corazziere, è uno che gli piace venire a giocare anche sui lati. Però questo magari favorisce, quando va a cercare largo sull'altezza uno spazio, favorisce la creazione... Quella cosa di cui parlavo con Maurizio Sarri, il centravanti è lo spazio, favorisce una moltiplicazione di spazi che si aprono e vengono saturati dalla mezzala. Non dimentichiamo che lui è Mancino quando va a giocare sul piede dominante, di là gioca Zemischi che si può buttare dentro, è uno che calcia a finestra, uno che calcia a Vapuri, è uno che gli piace andare sotto il centrocampista avversario. A me non piace Milik personalmente, mi piacerebbe un altro centravanti diverso. Ma no, serio che non piace, ma non per cattiveria. Io credo che uno che abbia quel fisico e non metta i gomiti in gola al difensore avversario quando salti, potrebbe essere un indite. Però come mi fate notare voi, sul piano del movimento e sul piano della realizzazione, una caratteristica che lui non acquisisce in positivo, la moltiplica con altre cose, e dunque è un attaccante da Napoli. Allora siete d'accordo su questa cosa? Abbiamo avuto altri giocatori che non erano da Napoli e per fortuna non ci sono più. Quelli che salvavano la Penavera non ci sono aggiornati. No, lasciamo stare. Hanno fatto trasmissere intere su quei giocatori. Lasciamo stare. Allora vorrei tornare a bomba sulla partita di ieri per poi parlare sempre rispetto alla partita di ieri l'argomento portiere barra portiere, perché anche dall'altra parte c'era una specie di ragazzino, un ragazzo giovane, un portiere giovane come Comodero. Per la stessa affermazione di Gattuso nelle scorse settimane, partita con la Lazio, partita con la Juve, Gattuso ha affermato nella tua partita che questa squadra al momento non era in grado di supportare e sopportare un pressing ultra offensivo. Dunque il piano gara era stato rintanarsi, aspettare la giocata della squadra avversaria fino alla tre quarti e poi iniziare, stretti e corti e compatti, una pressione sul portatore e accorciare sugli appoggi. Dunque non una pressione ultra offensiva. Ieri invece primi 10 minuti alla grande. E poi 25-30 minuti Napoli nella tre quarti, difesa alta, molta pressione alta come era un vecchio Napoli. Secondo te è una questione solo fisica, è una questione di mentalità e fisico assieme o è una precisa strategia, ovvero con le squadre più forti di noi, le prime tre quattro, attendiamo e ripartiamo con quelle con le quali dobbiamo fare punti, dobbiamo provare a rilanciarsi, dobbiamo fare noi la partita, le andiamo a prendere, riprestiamo, rubiamo palla, andiamo a fare gol. Allora, per quanto riguarda la preparazione della partita, come ha detto giustamente Lino, in più di qualche conferenza, la partita si prepara quotidianamente a seconda dell'avversario. Ieri ne ho sentite di tutti i colori, i primi venti minuti era la scuola di Sarri, poi dopo mi sembra la scuola di Gattuso, poi mi sembra la scuola di Ancelotti. Io penso che l'equilibrio a cui riferivo prima è questo, oggi il Napoli è di Gattuso, pregi e difetti sono di Gattuso. Napoli dei primi 25-30 minuti che qualcuno ieri diceva è un Napoli Sarriano, ieri era il Napoli di Gattuso. Quindi pensiamo soltanto esclusivamente a questo tecnico che ha dato un'anima al nostro Napoli e smettiamolo sempre con questi discorsi vecchi. Anche perché la comparazione spesso la copia non è mai bella e funzionale come l'origine. Sì, oggi ringraziamo il mister che ha dato veramente un'anima a questa squadra. Vale, secondo te? E' vero, concordo perché adesso veramente è inutile fare ancora dei paradomi. Basta, questo è il Napoli di Gattuso. Come diceva Luciano, nel bene e nel male, adesso ci sta mettendo la sua faccia, il Napoli sta prendendo l'anima di Gattuso e la mette in campo, nel bene e nel male. E quindi già da domenica con Napoli guardate il calendario, alla possibilità con i prossimi sei avversari di Gattuso tranquillamente di fare i 18 punti. E' il problema di immaginarli a fare tu, di cosa può succedere da qui alla fine. Comunque, secondo te già con lei c'è una squadra che vorrà fare da subito la partita, da tignosa, cattiva, ma anche tecnicamente in grado di rubare palla e andare a fare un... Allora, il carattere del Ministro è proprio questo. La grinta. Ok? Stai dicendo che il Napoli, io non lo so quanto finirà, ma lo si giro con il legge, il Napoli finirà subito la prima, senza attendere. Ma come gli dici? Come gli dici? Per noi è molto più semplice perché, se ti ricordi nel mese scorso, anche due mesi fa ci abbiamo messo la faccia, abbiamo detto che Rino Cattuso era l'uomo giusto al posto giusto. Rino Cattuso è stato il primo. Quando l'abbiamo ufficializzato e si parlava di clausole più o meno lessatorie per eventualmente rinnovargli il contratto, tu fossi uno dei pochissimi, secondo te l'ideale non era fargli un contratto subiudice, ma valutare sin da subito il suo lavoro con un biennale, con un'eventuale opzione per il testo. Dunque, dare la garanzia davanti agli occhi di tutti, al tecnico, alla squadra, all'ambiente, che lui sarebbe stato non un mero traghettatore il cui conferma era subordinata a chissà quali risultati o a quali obiettivi da conseguire, ma era lui a prescindere una ricostruzione per poi ripartire in maniera... Come è successo? Come sta succedendo? Perché a me piace come Rino metterci la faccia, sempre e comunque. E allora mettiamoci la faccia subito. 2 a 0, 2 a 2, un meraviglioso voto di Guagliarella. Secondo qualcuno, secondo troppi a mio parere, ma poi sembra che io voglia fare, voglia vendere il mio pensiero, il mio pregiudizio su chi piace e chi non piace, rispetto a quelli che sono in rosa a Napoli, colpa o con responsabilità di Alex Meretti. Dopo lo chiederò al collega che era in tribuna stampa, lo chiedo al preparatore dei portieri. Parliamo del gol di Guagliarella, dunque parliamo del tiro, ne parliamo dal punto di vista tecnico-tattico, dal punto di vista biomeccanico, e analizziamo il movimento di Meret e spieghiamo a quelli pieni di pregiudizio perché l'Aerone non poteva fare assolutamente nulla. Anzi, paradossalmente, era meglio se rimaneva fermo e prendeva gol, magari non nascevano tutte le polemiche, anche striscianti che sono nate sul gol del 1-2. Ma è una palla che viene da destra. Ok, il movimento bellissimo che fa Guagliarella è un movimento e contro movimento da insegnare nei settori giovanili. E nel quello che provoca lo sciuola, il movimento largo e stretto che rende sconocchiare. Di solito chi riceve la palla è detto il passaggio. lui fa un movimento e contro movimento, fa sbilanciare i sai, e facendo questo movimento, tutto questo accade in due o tre mesi, una frazione di secondi, e sbilancia poi i sai. La palla che viene da destra è una signora palla, un lancio che viaggerà sicuramente sui 70-80 km all'ora. Si vede, qualsiasi tecnico riconosce il gesto tecnico di Guagliarella, è un movimento copso femorale, prende la palla di interno piede, e facendo perdono sulla gamba sinistra, lui non solo calcia benissimo verso la porta, e questa palla se si vede bene nelle immagini, fa anche un giro prima largo e poi verso la porta. ma incrementa anche la velocità del lancio. Perché incrementa? Perché quando è che si ha un aumento della velocità del pallone? Si ha un aumento della velocità del pallone quando c'è una traslazione del piede verso il centro di massa del piede stesso, cioè praticamente gli fa perno sul piede sinistro, e con il movimento copso femorale colpisce così bene la palla che gli da un incremento di velocità. Di solo l'incremento di velocità, nel senso come l'ha colpita così in Guagliarella, si ha dello 0,58-0,60% minimo di aumento di velocità. Quindi quella palla viaggerà sui 130-140 km all'ora. E tutto avviene in una frazione di secondo. E quindi quel valore aggiunto che dà Guagliarella a quella velocità in più, che dà Guagliarella a quel pallone, è tanta roba. Meret viene anche in quel momento distratto da questo movimento contro movimento. perché se vedete bene l'immagine, lui trasla un po' in più verso il lato destro della porta. Perché? Perché la palla viene e lui chiaramente scivola la difesa verso la palla, assorbe il movimento, ma anche lui tende. Non resti al centro della porta, assorbi in maniera funzionale e situazionale secondo lo sviluppo dell'azione. Io in quel caso lì faccio un applauso a Guagliarella e se si vede, si chiama variazione incrementale, lui lo sguardo di Guagliarella, mentre fa il contro movimento, il suo sguardo è verso il pallone, cioè l'angolazione, lo sguardo è sempre rivolto verso il pallone. Lui la porta non la guarda proprio più, la sente la porta con la visione periferica e questa situazione si chiama variazione incrementale. Col movimento qualcosa femorale lancia questa palla violenta verso la porta di Meret. Io personalmente da allenatore dei portieri non darei la colpa al portiere, ma darei veramente un plauso al nostro ex bomber Guagliarella. Il specchio ci ha spiegato perché sarebbe il caso di lasciare perdere Alex a Meret. Adesso mi rivolgo al collega. Ho la sensazione, a prescindere da un gol di ieri, ho la sensazione che da qualche settimana a questa parte ci sia una corrente trasversale che non fa nulla per levare responsabilità a questo giovane portiere. Sei della mia stessa, del mio stesso parere o hai un ideale rosso? Tutto è natura che le interazioni che ha fatto per tutto sulle essenzialità di fare un vaccino attuale. Ora, sai meglio di me che quest'ambiente giornalistico capace di da una parola ci costruisce solo un titolo. Però, se un valore come quello di Meret viene messo in discussione, penso che sia una cosa molto grave. Ieri l'unica cosa da fare è dire chapeau a Quagliarella, fare un applauso a Quagliarella per quello che è bello e bello. Fammi capire cosa avresti dovuto fare in me. Io ti chiedo chi lo fa a livello e te. Non lo dico a me! Io, onestamente, è da settimane che dico di lasciare perdere Meret, perché il pregiudizio che c'è nei confronti di questo ragazzo è palese, non è neanche più tanto strisciante e credo che dovremmo prendere esempio da quello che hanno fatto altre società quando hanno fatto una scelta analoga. Ad esempio il Milan ha tutelato Donnarumma sempre, comunque di ogni caso. E a inizio carriera il Bungigio qualche fesseria l'ha fatta. E se scegli... Io ho sempre detto la crescita del giovane portiere, Giano mi è testimone, la crescita del giovane portiere passa necessariamente per qualche fesseria. È indenico, è naturale, è guai se non fosse così. Quindi se hai scelto anche in maniera estremamente importante un investimento di puntare su questo ragazzo è innanzitutto perché ci credevi, in secondo luogo perché hai fatto un investimento importante, in terzo luogo perché avevi una necessità anche di cambiare il portiere, visto che quello che c'era prima aveva altre caratteristiche. Poi volevo aggiungere un'altra cosa. Con la nuova regola, quando si batte il calcio di fondo, praticamente con i due centrali che si allargano sulla linea di 5 e 50, io ho notato che con il gioco di Rino la palla si sposta di 5, 10, 15 metri. Quindi è una tecnica potatica molto semplice. A differenza prima invece del gioco del 4-3 di Sarri, dove praticamente i due esterni salivano e il centrale di centrocampo si abbassava. La coschetta salì dalla volpiana. Esatto, era Pepe Reina che era costretto a fare il lancio di 40-50 metri e là era un maestro e era bravo a pescare l'uomo sulla fascia. Con questa novità di regola per il gioco, si evita quasi il lancio sui 40-50 metri, ma così come l'ho visto ieri ma l'ho visto anche in altre partite, spesso si esce con palla al piede dall'area di rigore con il centrocampista centrale. Quindi il fatto che bisognerebbe essere... Abita al portiere di fare un lancio di 40-50 metri, che è la cosa poi tecnicamente un po' più difficile per uno che è abituato più a giocare con le mani e con i piedi. A meno che tu non abbia una scuola già da settore giovanile dove ti hanno insegnato che il 70-60% dei lavori quotidiani tu ti faccia con la tecnica botanica, sia nel semplice che sia nel complesso. Io vi ringrazio, voi siete stati estremamente tecnici e collaborativi, però io, che sono generalmente uno che non si accontenta mai, 30 secondi, l'ultimo passaggio vorrei farlo partendo da Mario. Ieri c'è stato l'ennesimo fenomeno di sordità selettiva da parte di Sky. Sordità selettiva che ormai il gruppo arbitrale dà quel scontato, visto che all'AIA sono sordi per partito preso. Ma là, magari, chi è tesserato AIA ha altri parametri di valutazione comparativa, tra coloro i quali sono autoreferenziati, parlano un linguaggio che noi comuni mortali non conosciamo. Mi sembra strano, mi fa piacere che Ragneri abbia sentito l'esigenza da uomo, da allenatore, da uomo di sport, di dire rialinate parole. Mi fa piacere che, appena la linea è tornata allo studio, il grandissimo Condo, un giornalista meraviglioso, abbia sentito l'esigenza di stigmatizzare questa cosa. Vorrei, in tuo parere, sull'ennesima prova di otite selettiva da parte di Caressa e del collega che faceva il commento tecnico. Bene. I numeri parlano? Non è il primo risultato, giusto? No, sai perché dico risultato? Perché io sono uno dei pochi che non tiene il pezzotto. Prima che come giornalista da napoletano e da fruitore di un servizio che paga profumatamente, perché ragazzi, veramente, Sky è un bene di lusso, non ce l'ha ordinato il medico, ritenerlo. Io ho una bimba piccola, le devo garantire anche i cartoni. Mia moglie è appassionata di cinema, ho il pacchetto completo ed è un bene di lusso. Non è il pane e il latte che ti ordina il medico. Dunque mi chiedo da napoletano, prima ancora che da fruitore di un abbonamento che paga in maniera puntuale, mi chiedo perché continuare con questa audita selettiva, perché non andare da un motorino, insomma. Perché a volte... Interessi di testata? Probabilmente sì, sì, forse è sintetizzato alla grande di tutto, no? Quando ci sono fattori del genere, veramente chissà perché, ma... Ok. Secondo Mario, interessi di testata. Secondo Luciano? Sordità selettiva. No, ma anche qualche tecnico dimentica o non sente. Qualche tecnico, qualche presidente. Questo è un danno per uno sport meraviglioso come il calcio. Io penso che se non lo si faccia in tempo reale non lo si possa fare diversamente. Io abbandonerei il campo quando sento queste... Ebbè, c'è stato un arbitro in questa junior solo che ha cercato di porre di meglio. Io abbandonerei il campo. Gli hanno distrutto la carriera. Lasciamo perdere. Stendiamo un velo piedoso su questa cosa. Vi ho fatto sapere che c'è un abbonamento e lo pago, non tengo il prezzotto, non era un problema vostro. Saluto Luciano Tarallo, lo ringrazio sempre e comunque per le sue chicche tecniche che spiega ai nostri telespettatori, facendo comprendere quello in maniera semplice, quelle che sono cose estremamente complesse. Ringrazio il collega Mario Passaretti. Ringrazio soprattutto coloro i quali mi sopportano e sopportano il mio essere logorroico. Saluto i nostri telespettatori, vi invito a rimanere connessi con noi, a interagire con le nostre pagine Facebook. Guardate, fateci guardare, fateci sapere cosa vi piace, ma soprattutto fateci sapere cosa non è stato di vostro gradimento. Io, la redazione di per sempre Napoli, i colleghi e i tecnici, proveremo a porvi di meglio. Buona serata a voi. Buona serata. Ciao. 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 Ciao.